Cristo risorto, buongiorno carissimi amici. Il Vangelo di Luca oggi illumina la nostra vita dal capitolo 8, versetti 4, 15. Poiché una grande folla si radunava e accorreva a lui gente da ogni città, Gesù disse con una parabola. Il seminatore uscì a seminare il suo seme. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada e fu calpestata. E gli uccelli del cielo la mangiarono. Un'altra parte cadde sulla pietra e, appena germogliata, seccò per mancanza di umidità. Un'altra parte cadde in mezzo ai rovi e i rovi, cresciuti insieme con essa, la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono, germogliò e fruttò cento volte tanto. Detto questo, esclamò, chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. I suoi discepoli lo interrogavano sul significato della parabola ed egli disse «A voi è dato conoscere i misteri del regno di Dio, ma agli altri solo con parabole, affinché vedendo non vedano e ascoltando non comprendano». Il significato della parabola è questo. Il seme è la parola di Dio. I semi caduti lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal loro cuore, perché non avvenga che, credendo, siano salvati. Quelli sulla pietra sono coloro che, quando ascoltano, ricevono la parola con gioia, ma non hanno radici. Credono per un certo tempo, ma nel tempo della prova vengono meno. Quello caduto in mezzo ai rovi sono coloro che, dopo aver ascoltato, strada facendo, si lasciano soffocare da preoccupazioni, ricchezze e piaceri della vita e non giungono a maturazione. Quello sul terreno buono sono coloro che, dopo aver ascoltato la parola con cuore integro e buono, la custodiscono e producono frutto con perseveranza. Amen. Ecco, cari amici, oggi abbiamo in questa giornata la parabola del seminatore. Una parabola che la possiamo ascoltare nei Vangeli sinottici, Matteo, Marco, Luca. E in questo periodo stiamo leggendo, nel tempo feriale, il Vangelo di Luca e c'è una descrizione molto dettagliata e particolare. Innanzitutto Gesù sta parlando alle folle e sta parlando del logos, della parola. Una parola che si fa carne, una parola che è venuta da Dio e va verso l'uomo. Una parola che comunque viene data anche a noi, viene seminata nei nostri cuori, nelle nostre vite. E Gesù, per far comprendere l'importanza dell'accogliere questa parola, ma soprattutto l'atteggiamento migliore, racconta questa parabola. Quindi abbiamo quattro tipi di terreno. Un terreno che è la strada, un terreno che è la pietra, un terreno che sono i rovi, un terreno che è buono. Quattro tipi di terreno e quattro effetti che vengono prodotti dal seme su questo terreno. Andiamo subito alla spiegazione di Gesù, perché è una spiegazione che comunque dà chiarezza. Quasi non ci sarebbe bisogno di commentarla, ma vediamo che cosa oggi il Signore ci vuole dire. E' quello che vuole parlare a noi, nei nostri cuori. Innanzitutto ci dice che cosa evitare di fare e che cosa invece essere. E lo fa attraverso tutti questi terreni, perché in tutti noi, carissimi amici, è presente un tipo di terreno. Ma anche simultaneamente abbiamo tanti tipi di terreni nel nostro cuore. Innanzitutto in tutti noi è presente questo terreno che è la strada. Ovvero ascoltiamo la parola, ma immediatamente, magari anche oggi stesso, finché ve l'ho letta poco fa, voi l'avete sentita, ma siete stati un po' distratti, già non vi ricordate che cosa avete ascoltato. Quante volte accade durante la messa, che si sentono le parole, immediatamente non so neanche che cosa ho ascoltato. O nella nostra preghiera personale. Ho letto un capitolo, poi, boh, non lo so. Allora, il diavolo, dice Gesù, che non vuole che dopo aver ascoltato la parola, noi crediamo in quella parola e credendo veniamo salvati. Il diavolo fa di tutto per distrarci. Quindi innanzitutto dal terreno, lungo la strada, comprendiamo una cosa, attenzione alle distrazioni. Quando noi preghiamo, non lasciamoci distrarre. Preghiamo in un luogo, come ha detto Gesù stesso, parlo della preghiera personale, tranquillo, sereno. Se non possiamo fare altro, è chiaro, preghiamo dove ci troviamo, in modo che siamo noi e la sua parola. E quindi non vengono le distratti. E se vengono, le allontaniamo e rileggiamo la parola. Perché il diavolo non vuole che noi crediamo. E questo si ripete riguardante il seme sulla pietra. Ovvero, quando ascoltiamo e diciamo che bello, che bella parola oggi, lo diciamo con gioia, ma poche prove o la prima prova, già ci siamo dimenticati di quello che abbiamo ascoltato, di quello che è stato detto, che è stato letto. Quindi, anche qui, crediamo un pochettino, accogliamo con gioia, ma poi ritorniamo alla solita ruotin della incredulità o del dimenticarci della parola di Tio. Terzo terreno, i rovi. Quindi ascoltiamo, crediamo, ma iniziano delle preoccupazioni. Iniziano situazioni che ci prendono. Quindi non solo negative, ma anche belle, ricchezze e piaceri della vita. Faccio questo, faccio l'altro. E la parola di Dio è insieme a tutto il resto. Fino al punto che diventa meno, perché noi andiamo più da altre cose, in preoccupazioni, in pensieri, in altri piaceri. E la parola di Dio la dimentichiamo. E quindi la nostra fede vacilla. Ecco quindi il quarto terreno, quello buono, quello perfetto, ideale. Ma abbiamo già detto poco fa che in noi sono presenti tutti i terreni, tutte le situazioni. Ma Gesù ci spinge oggi innanzitutto ad ascoltare la parola con cuore integro e buono. Ovvero, prima di iniziare a pregare, a leggere, a ascoltare, gli diciamo Vieni Spirito Santo, io accolgo quello che tu mi dirai. Quindi, indipendentemente dal contenuto, io sono disponibile. E non diciamo, vediamo oggi che cosa mi dice, se è bello lo ascolto e se no non mi interessa. Se parla di amore e perdono oggi non mi interessa. Se parla invece di benedizione la prendo per me. Ecco, il cuore integro e buono è quello che dice il Signore vengo. Signore parla che il tuo servo ascolta. Così ha detto Samuele di notte, quando Dio lo chiamava. Parlami Signore, perché il tuo servo ascolta. Quindi, ascoltare con cuore buono e integro. Secondo, custodire. Quanto è importante custodire la parola che noi ascoltiamo. E in questo modello è Maria. Perché Maria ha custodito e conservato dentro di lei tutto ciò che aveva ascoltato dalla voce dell'angelo, dalla voce di Dio. Quindi custodire per noi significa, durante la giornata, ripetere, pensare alla parola che abbiamo letto al mattino, ascoltarla e fare in modo che si attui nella nostra vita, si concretizzi, che la possiamo vivere. Ma soprattutto, infine, Gesù ci dice produrre frutto con perseveranza. Parla di perseveranza. Fratelli e sorelle, è bello seguire questi video quotidianamente, con perseveranza. Ma vi chiedo anche di mettere insieme a questi video commenti la preghiera personale. Perché solo ascoltare va bene, ma il Signore ci chiede di pregare da soli, giorno dopo giorno dopo giorno. Un consiglio che vi do, vi ho già dato tempo fa, il nostro padre fondatore della cui non è Giovanni Battista, padre Riccardo, ci ha insegnato uno stile di preghiera, un metodo di preghiera, che è un po' come, potremmo dire, una lezione divina, attraverso la parola di Dio, la lode, il ringraziamento, la meditazione, la riflessione, il canto. Ma soprattutto quello che ci ha insegnato è il pregare chiaramente, quotidianamente, ma dal mattino presto. E noi come comunità, nel nostro direttorio, nella nostra regola, ci alziamo alle cinque ogni mattina. E già alle cinque e mezzo, dopo essersi lavati, preso un caffè, facciamo un'ora di preghiera personale, con la parola di Dio. Uno potrebbe dire, mamma mia, alle cinque. Beh, è chiaro, si va a letto prima. Se vado a letto a luna di notte, non posso alzarmi alle cinque. Anche noi, se andiamo a letto un po' dopo, per alcuni incontri, lavoratività, ci alziamo un po' dopo. Però ci si alza presto. Perché, altrimenti, non riusciamo a pregare? Inizia la vita, anche come parrocchia. Già ci sono attività, vengono persone, ci chiamano, ci scrivono, dobbiamo uscire. E tutti abbiamo lavoro, attività, scuola. Allora, questo è il consiglio. Alziamoci prima. Non è tempo perso. Se aspettiamo di essere riposati, finiremo la nostra vita. Arriveremo a 90 anni. Non saremo mai riposati. Ogni notte qualcosa non andrà bene. Quindi, di più. Voglio dormire di più. E invece, fate questo esperimento. Alziamoci 20 minuti prima. Perché? Perché voglio pregare 20 minuti con il Signore. Alziamoci 10 minuti prima. Voglio pregare la parola 10 minuti prima. Così poi ascoltate il commento subito dopo. Alziamoci mezz'ora prima. Voglio pregare mezz'ora questa mattina. E attenzione. Io ne ho sentite tante, tante, di giustificazione e motivazioni anche nella nostra comunità. Io prego al pomeriggio, la faccio alla preghiera personale perché al mattino non ho tempo. Questa non è vero. Perché le cose che vogliamo fare le facciamo. Diverso se uno comunque deve essere alle 5 al lavoro, in fabbrica e si capisce. Però, se devi essere alle 8 e mezzo al lavoro, hai tutto il tempo. E guardate che Gesù ha detto, cercate prima il Regno dei Cieli e il resto vi verrà dato in aggiunta. Quindi abbiamo il coraggio, fratelli e sorelle, di dare a Dio la primizia. Non diamo a Dio il resto, il superfluo. Cioè, prima mi faccio la giornata e la sera, davanti al letto, sopra il cuscino, dico Gesù e mi addormento. Non serve a nulla. Dio ha dato tutto a me. La vita, la salvezza, il suo figlio, la parola, l'eucaristia, la chiesa, la comunità. E io cosa do a Lui? Come rispondo a Lui? Dal mattino mi alzo presto, così dice il Salmo. Dal mattino mi alzo e leggo la Tua parola, proclamo la Tua parola, con perseveranza. Perché se no, fratelli e sorelle, il nostro essere cristiani, come abbiamo ascoltato ieri la parola, è vano. La nostra fede è vana. E San Girolamo anche oggi ritorna. L'ignoranza della parola di Dio, l'ignoranza di Cristo. Se io conosco un solo versetto nella Bibbia, amo al prossimo tuo come te stesso e non conosco altro, ma chi ti crede che conosci Cristo? Puoi fare tanti rosari, partecipare a tante messe e non leggi mai la parola di Dio. A che cosa serve, caro amico? La mia conversione è stata così attraverso la mia famiglia. Abbiamo iniziato ad aprire la parola. E ogni mattina tutta la nostra famiglia si alzava alle ore sei e per mezz'ora tutti e quattro, mio papà, mia mamma, mio fratello e io, leggevamo un capitolo e un Salmo. Lodavamo e cantavamo. La nostra vita è cambiata, tutta la famiglia. Quindi ti esorto, ascoltiamo oggi. Siamo obbedienti alla parola. Ascoltare la parola, perseverare, non lasciarci distrarre, non mettere altre cose al di sopra, ma soprattutto ogni giorno, quotidianamente. Quindi al suono di queste campane, carissimi amici, preghiamo. Vieni, Signore Gesù, vieni oggi nella nostra vita. Vieni oggi affinché possiamo fare nuova esperienza di Te. Vieni oggi, Signore Gesù, perché io possa accoglierti oggi, accoglierti nel mio cuore. E il Salmo che oggi ci viene proposto è il Salmo 56, al versetto 11-12 dice In Dio di cui lodo la parola, nel Signore di cui lodo la parola, in Dio io confido. Non avrò timore, che cosa potrà farmi un uomo? E io lodo la Tua parola, oh Signore. Lodo il verbo che Tu hai donato a me. In Te io voglio confidare e so che non avrò timore in tutta questa giornata e nemmeno l'uomo potrà farmi nulla perché Tu sei con me. E io voglio impegnarmi quotidianamente ad ascoltare e a leggere la Tua parola e mi impegno da domani ad alzarmi prima, 10-20 minuti prima e lo dedico a Te questo tempo, sapendo che Tu mi benedirai abbondantemente e grandemente. A Te la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Buona giornata, carissimi amici. Mettete la prova, eh, Signore. Sfidatelo. Fateli vedere che hai riservato un tempo per Lui. Al mattino presto e Lui vi benedirà. E mi potrete testimoniare che è così. A domani. Ciao, carissimi. Grazie che mi avete accolto. Grazie a tutti.